Salve amici benvenuti e bentornati nel mio canale Oggi vi mostrerò un nuovo gameplay su come usare un pc Ovviamente questo non è una vera stanza con un vero pc ma è un pc simulator Facciamo finta comunque che sia una stanza Accendiamo il computer Starting computer Enzo Macher che ha anche sbagliato scrivere il mio nome Va bene questi sono i vari spondi che potete personalizzare una volta entrato nel vostro computer Qua c'è l'edit Usciamo Queste sono le informazioni del sistema Qua c'è il processore La grafica La memoria e lo storage In totale sono 8000 punti E poi qui c'è l'app downloader Ok Spegniamo il computer E ora vi mostrerò come creare un computer del genere No Andate sullo shop Andate sul processore Scegliete il processore che volete Il processore ovviamente Non il processore La memoria La memoria Il culo Si dice così Poi la card grafica Il power sdruppi Lo storage Poi il monte board Sarebbe la scheda madre Il monitor Il case E basta Poi Poi da questa porticella Vi arriveranno Gli ordini Poi voi Torcherà a voi Assembrare il vostro case Accendere Usare il vostro computer Comunque ora vi mostro Che questa cosa è vera Ma non è falsa Ecco qua La scatola Dove c'è dentro Il case Ora la apriamo insieme In diretta Prendiamo il martello Oh Che bello Che bello Che bello Usare il martello Ok Aperto Ecco qua Ah Che cavolo Ecco qua Il nostro case Bello Nuovo Io lo sbalacchio In giro Tanto non ci fa niente Manco lo devo usare Ok amici Spero che questo video Vi sia piaciuto Nel caso Lasciate like E iscrivetevi al canale E se volete Scaricarvi questo gioco Vi mostro Da dove si scarica Ovviamente Da play store Avendo memoria libera Dovete cercare Giochi per pc Comunque una cosa Simile Ecco qui Appare il pc simulator Lo installate Il gioco è fatto I only call you And it's half By the only time That I be by Your side I only love it When you touch me Not feel me When I'm fucked up That's a real me I only love it